caro santin ma quanto sei vergognoso io nel video ho pure cercato te datte in suggerimento te fa te capì nei guai dove te stai a caccià a stanziama qua a marmotta a quel gibbone di Andrea Di Pre e te che fai? far cazzaro? e poi te metti a di che qua a foto non sei te ma dai e allora che motivo c'hai di metterla e poi di levarla subito che motivo c'hai di disattivare i commenti su ogni tua foto su Instagram perché te stavano a sfondare ma che te stai a inventare? sei ridicolo, sei penoso io nel video ho pure levato il pezzo dove parlo di te quando hai insultato i romani che hai detto romani di merda te me sai che è dentro al cervello c'hai a merda c'hai santin te lo dico io, te lo dico allora smerengole ieri mi ho messo una foto dove c'era un fallo e c'era una donna che stava facendo un soffocone al fallo ovvero l'uomo e vi dico che quell'anno sono io nella mia girlfriend l'ho preso da Instagram quindi Charlie quindi ripeto per chi non ha ancora capito quello della foto di ieri del soffocone del joystick dell'Xbox non sono io e non è la mia girlfriend quindi inventate di una mia storia peace buon pomeriggio